Allora facciamo un applauso alle vostre ragazze delle Magiberti di Cittadella. Allora io ve lo presento. Allora dal 2004 ho messo il ballistico Giro Bianchi e affiancato dal gruppo Magiberti di Cittadella, il compito guidato da Maddalena Zanamella, al porto campionessa mondiale di Magiberti della squadra dal 1927 al 1928. Il gruppo è formato da 19 ragazzi e bambini, ma qui da poco serve su più ragazzi. E allora facciamo un applauso alle Magiberti di Cittadella. Grazie a tutti. 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 Applausi. Applausi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.